Ciao a tutti, come sapete questo è il primo webinar del ciclo sul decennio digitale europeo, diritti digitali e intelligenza artificiale, che è un ciclo di webinar proposto dallo Europe Direct Università Roma 3, in partenariato con lo Europe Direct Roma Innovazione Operativo per il Sole Forma XPA e lo Europe Direct dell'Università di Siena, quindi ringrazio i partner per questa iniziativa. Oggi è il primo appuntamento, parleremo di libertà di espressione online e hate speech, quindi anche dei profili europei e delle pratiche di contrasto. Poi avremo ulteriori quattro appuntamenti che si terranno tutti i giovedì fino al 2 dicembre, sempre dalle 10 alle 11 e 30. Quindi, come vi dicevo, questo è un partenariato tra Trade Europe Direct, il programma di oggi potete vederlo a video, quindi abbiamo il professor Bassini dell'Università Bocconi che ci parlerà dello statuto giudicico dei prestatori di servizi e sui riflessi sulla libertà di espressione e seguirà un'altra presentazione della professoressa Alessandra Coppola, che è la vice coordinatrice della No Hate Speech Movement in Italia, che ci parlerà appunto di ricostruzione contro narrazione e pratiche della società civile. Poi chiaramente avremo sempre un po' di spazio per il dibattito finale. Intanto, come di Europe Direct, vi ricordiamo che è stato pubblicato dalla Commissione Europea il sesto resoconto del codice di condotta online contro i discorsi d'odio in rete, che potete consultare o direttamente sul sito della Commissione Europea, oppure sulla nostra pagina Europa, perché lo abbiamo inserito come una delle notizie all'interno del database. Vi ricordiamo inoltre che noi siamo anche uno degli hub che può organizzare gli eventi nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa, che è la prima grande consultazione di tutti i cittadini europei su varie tematiche di interesse per il futuro dei cittadini europei. Tra questi parleremo quindi di trasformazione digitale, salute e democrazia europea. Quindi vi invitiamo a visitare la piattaforma della Commissione Europea sulla conferenza sul futuro dell'Europa e inserire le vostre idee, così come siamo a disposizione dei cittadini per organizzare dei dibattiti sui temi che loro stanno a cuore. Qualora dovesse essere interessati a organizzare un dibattito, vi chiediamo cortesemente di contattarci e quindi poi dopo ci attiviamo. Ora vi do qualche comunicazione di servizio. Siccome normalmente ci chiedete dell'attestato di iscrizione, questo lo riceverete più o meno una settimana dopo l'evento. Vi sarà inviata una mail da parte nostra, da parte dello staff e dopo che avrete ricevuto questa mail dovrete compilare il questionario di valutazione. Solo dopo aver compilato il questionario di valutazione sarà possibile scaricare l'attestato di iscrizione. Vi chiediamo di non inviarci mail prima di una settimana perché appunto ci vuole un po' di tempo per attestare tutti i partecipanti. Vi ricordiamo inoltre il nostro focus che è Europa.formes.it che è un focus di aggiornamento su quelle che sono le principali novità dall'Unione Europea ma all'interno di questo focus è possibile anche consultare la banca dati dei finanziamenti europei diretti 2021-2027 che vedete evidenziati nel box rosso rettangolare. Abbiamo in linea una banca dati dei bandi comunitari e anche una banca dati degli eventi che si vengono organizzati sia dalla Commissione Europea ma anche da altri Europe Direct o altri enti su tutto il territorio. Inoltre abbiamo una pagina interamente dedicata all'innovazione digitale che è appunto www.igov.formes.it in questa pagina troverete tra l'altro molte notizie di interesse per questo ciclo che noi stiamo organizzando quindi vi preghiamo di visitarla perché trovate sia notizie di bandi ma anche documenti che vengono pubblicati dalla Commissione e anche gli eventi che vengono organizzati a livello europeo su questi temi. Inoltre vi ricordiamo che noi abbiamo una newsletter di informazione dove tra l'altro vi informiamo su tutte le iniziative che sono in corso abbiamo uno sportello informativo che in tempo di Covid è diventato online così come abbiamo i social, il Twitter e YouTube. Quindi vi lascio, lascio la parola ora al professor Rassaele Torino dell'Università Roma 3 e anche coordinatore del centro Europe Direct Roma 3 che ringrazio per averci proposto questa iniziativa e quindi lascio la parola a lui. Grazie Claudia, grazie, grazie Claudia buongiorno a tutti, buongiorno ai partecipanti al nostro webinar buongiorno agli studenti che partecipano anche quelli del mio corso di diritto e politica europea. Noi siamo molto contenti come Università Roma 3, come Europe Direct Roma 3 di organizzare e di coorganizzare con il FOMES e quello dell'Università di Siena questo ciclo di webinar che vede veramente uno sforzo congiunto per cercare di chiarire alcuni dei punti principali, certo non tutti, del futuro digitale europeo. Come voi sapete nel marzo del 2021 la Commissione Europea attraverso la bussola digitale europea ha tracciato il percorso di trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030 tracciando un percorso che vedrà una serie di iniziative e di attività in vari settori, in vari contesti, però quello che è stato chiaro, quello che è chiaro fin dall'inizio nella idea della Commissione Europea è che la creazione di uno spazio digitale europeo deve essere coerente con i valori dell'Unione Europea, cioè con i valori segnati dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea e infatti nella bussola digitale si fa un chiaro riferimento ad alcuni diritti digitali, alcuni diritti digitali ed alcuni principi digitali. Fra questi diritti digitali c'è sicuramente la libertà di espressione che è oggetto del nostro webinar odienno e che significa dal punto di vista delle istituzioni europee non solo la libertà di potersi esprimere liberamente online, ma anche la possibilità di accedere ad informazioni diversificate, informazioni affidabili, informazioni trasparenti. Spazio digitale europeo coerente con i valori dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea significa anche tutela dei diritti fondamentali, tutela online dei diritti fondamentali. Quali diritti fondamentali? Oltre alla libertà di espressione che abbiamo già citato e che è richiamata dall'articolo 11 della Carta di Nizza è soprattutto tutela della dignità della persona, tutela e rispetto della diversità culturale, della diversità religiosa, di genere e di orientamento sessuale. Ovviamente la tutela della libertà di espressione e il rispetto di quei diritti fondamentali richiede un bilanciamento, richiede il consueto esercizio, la consueta esigenza di far fronte alla necessità di bilanciare questi diversi diritti. La libertà di espressione da un lato, la dignità della persona e i diritti fondamentali dall'altro. Questo bilanciamento nel mondo digitale diventa persino più difficile. Perché diventa più difficile? Perché sono presenti degli intermediari, le grandi piattaforme, che sono necessarie a noi tutti i cittadini per poter accedere online, perché online tutto quello che si fa si diffonde velocemente, che si carichi una canzone, una foto, che si faccia una dichiarazione, si moltiplica e perché poi vi è difficoltà di porre rimedio ad eventuali atti illeciti o illegali portati avanti e generati sul web, proprio per la sua espansione e velocità. Come è stato accennato, come è stato detto, l'Unione Europea non è rimasta inerte evidentemente di fronte a questa difficoltà di bilanciare online la libertà di espressione con i diritti fondamentali, sia perché per l'Unione Europea il mercato unico, che è sempre stato uno degli obiettivi dell'Unione Europea, è oggi anzitutto un mercato digitale, sia perché l'Unione Europea crede fermamente in quei valori dell'articolo 2 che la contraddistinguono rispetto ad altre aree del mondo. E quindi per questo motivo, come è stato pure qui accennato, nel 2018, nell'aprile 2018, la Commissione Europea ha emanato una comunicazione cercando di tracciare un approccio europeo per contrastare la disinformazione attraverso l'U-Code of Practice on Disinformation. Questo codice, peraltro, di cui prima abbiamo visto un report, è un codice che si fonda su un'idea di autoregolazione, di autoregolazione dei grandi operatori che operano online. Tuttavia, questo approccio di autoregolazione, nel recentissimo Digital Service Market Act, ha cambiato pelle, perché nel Digital Service Market Act, ma i relatori che seguiranno saranno più precisi, evidentemente è previsto che il codice passi da essere una autoregolazione a uno strumento di co-regolazione, cioè di regolazione di rapporto regolato e negoziato evidentemente fra la pubblica autorità e questi operatori. Evidentemente, dunque, il riferimento che ho appena fatto al Digital Service Market Act mi fa subito pensare ai due temi che saranno affrontati oggi. Il primo, che sarà affrontato dal collega Marco Bassini dell'Università Bocconi, è quello dello statuto giuridico dei prestatori di servizi online, dei provider, delle grandi piattaforme. Soprattutto, questo statuto giuridico confrontato rispetto alla loro responsabilità, obbligo forse di dover controllare e rimuovere i contenuti illegali presenti online. Un obbligo è uno stato giuridico su cui evidentemente c'è stata sia una stratificazione di norme dell'Unione Europea, iniziare dalla direttiva sulle comunicazioni elettroniche, considerando anche le future iniziative che sono in cantiere, sia una stratificazione dovuta ad alcune pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ma a volte, come ben sappiamo, il diritto, la regola giuridica non basta. A volte occorre ricorrere ad altre soluzioni. Ecco perché dunque oggi abbiamo deciso di sentire, oltre al giurista, anche Alessandra Coppola, la nostra seconda relatrice di oggi, sulle pratiche di contrasto alla società civile rispetto al fenomeno delle speech. Perché appunto vogliamo confrontare come le regole presenti o future siano efficaci rispetto all'obiettivo, con le prassi che vengono condotte evidentemente a un livello differente, sempre da varie associazioni, istituzioni. Quindi io ancora una volta, avendo parlato già troppo in questa mia introduzione, ringrazio i nostri due relatori sin d'ora e do per la sua relazione iniziale la parola a Marco Bassini che dovrei vedere collegato fra poco. Marco, a te la parola. Il volume? Il volume, eccoci, benissimo. Allora, dovremmo avercela fatta. Anzitutto grazie, grazie davvero a Europe Direct e Formez per questo invito, grazie anche insomma ai saluti della dottoressa Salvi, scordino l'amico Raffaele Torino e anche agli organizzatori, a Ludovico Carino per l'assistenza tecnica. Io sono molto contento di essere qui oggi e di poter rendere una relazione su un tema che è di per sé tecnico, quello della disciplina del ruolo dei prestatori di servizi dell'informazione e quindi i prestatori di servizi digitali, grandi giganti della rete, Facebook, YouTube, Google, soggetti di cui insomma si sente quotidianamente parlare e che sono stati anche menzionati, ricordati nell'introduzione a questo evento. Che però è un tema che ha dei riflessi profondi, come il titolo della mia relazione sta a indicare, sulla libertà di espressione e sul grado di tutela di questo diritto. Lo si diceva poco fa, sempre più questi soggetti sono in grado di condizionare in modo particolarmente significativo il godimento della libertà di espressione come di altri diritti. Pensate alla protezione dei dati personali, solo per citarne uno. Bene, il motivo quindi di questo intervento è legato anche alle riforme che recentemente l'Unione Europea ha messo in cantiere. Veniva citato poco fa la proposta di regolamento denominata Digital Services Act che si accompagna al Digital Market Act che è appunto a sua volta una proposta di regolamento che ambisce a fare chiarezza in un campo dominato purtroppo per lungo tempo da grandi incertezze. Dobbiamo prima di valutare e poter comprendere il merito di questa proposta domandarci quale sia lo statuto giuridico di questi soggetti per comprendere se effettivamente le nuove norme immaginate dall'Unione Europea a questo riguardo possano costituire un vestito adatto al ruolo che questi soggetti rivestono e giocano nell'economia della società digitale. Partiamo da lontano, partiamo se volete da quello che è in realtà lo status quo perché le norme giuridiche pensate ormai a distanza di un paio di decenni sono ancora vigenti, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti troviamo un primo intervento del legislatore nel 1996 con un atto denominato Communication Decency Act, un atto che aveva una preoccupazione fondamentale, quella di evitare che internet diventasse una zona franca e che i soggetti come minori potessero accedere a contenuti che erano loro proibiti utilizzando semplicemente internet e quindi che la realtà virtuale diventasse in qualche modo una modalità di illusione dei limiti previsti dall'ordinamento giuridico nella realtà materiale. Questa è se volete è una preoccupazione davvero embrionale dei legislatori ma è una preoccupazione seria che ha animato soprattutto il legislatore e il congresso statunitense. E allora nel 1996 viene pensato un primo sistema di regole, una norma molto semplice, una norma davvero di ampia portata, la cosiddetta Section 230, la sezione 230 nella versione italiana, era una previsione che riguardava esattamente i prestatori di servizi digitali, i prestatori di servizi internet e che prevedeva essenzialmente un'esenzione e una deroga da responsabilità per qualsiasi attività di moderazione che loro potessero porre in essere rispetto a contenuti pubblicati dai utenti terzi. Per capire la portata di questa norma noi dobbiamo immedesimarci in quello che era il cyberspace nel 1996. Non era certamente uno spazio animato come oggi da grandi piattaforme dotate di potere economico ingente, era una realtà che andava ancora affermandosi, delineandosi, queste grandi posizioni di potere economico e poi anche giuridico non si erano ancora affermate. Ma con una scelta lungimirante il congresso sceglie di compiere una opzione, di adottare un'opzione assolutamente chiara, quella di mettere il minore numero di ostacoli possibile all'esercizio di attività di moderazione, attività sostanzialmente di rimozione di contenuti o, al contrario, scelta di rimantenere contenuti online. La moderazione può sostanziarsi sia nella rimozione di un contenuto ritenuto contrario a regole giuridiche o anche alle regole di quella comunità virtuale, ma anche nella scelta di mantenere online un contenuto. Con rare eccezioni legate soprattutto ai contenuti penalmente rilevanti, alle violazioni della privacy, al diritto d'autore, questo schema viene mantenuto inalterato. Questo ha facilitato questa previsione, questo schema ha facilitato la nascita delle piattaforme digitali come noi oggi le conosciamo, ha fatto sì che noi possiamo vedere una concentrazione di potere economico particolarmente rilevante in campo a quelle piattaforme che hanno avuto la capacità di aggregare contenuti, dati e creare delle comunità di utenti assolutamente rilevanti. Oggi, di fronte al cambiamento radicale che questi soggetti hanno subito e, se volete, anche al cambiamento dell'ecosistema digitale, ci si domanda se regole come queste siano ancora adatte. Perché di fatto la Section 230 prevede una sorta di immunità, di esenzione di responsabilità. È una scelta questa che si è stata operata dal legislatore statunitense con un obiettivo molto chiaro, quello di far sì che non potessero esservi, se vogliamo, degli incentivi in capo ai prestatori di servizi per rimuovere contenuti e quindi incidere sulla libertà di espressione. È una scelta questa che risente, se volete, della considerazione sacrale che gli Stati Uniti e il loro ordinamento tributano alla libertà di espressione. Il primo emendamento non è a caso il primo. Questa è la norma che ha consentito di far crescere piattaforme come Facebook, come Google. C'è un libro molto recente, molto bello, di Jeff Kosef, che è uno studioso giurista statunitense, che ha parlato delle 26 parole che hanno creato Internet. 26 parole perché appunto la section 230 si compone di 26 parole e stabilisce sostanzialmente che nessun prestatore di servizi potrà essere ritenuto responsabile per i contenuti pubblicati da utenti e sia che decida evidentemente di rimuovere un contenuto, sia che decide di mantenerlo online, sarà immune da conseguenze di sorte. Voi capite però che una norma pensata in un'epoca come quella, in cui Internet era ancora evidentemente in una fase embrionale, si deve confrontare oggi con una vera e propria posizione dominante di alcune piattaforme nel campo dei servizi digitali. E questo ci interroga, ha interrogato moltissimi giuristi statunitensi, sull'opportunità di scalfire questa previsione granitica, questa grande salvaguardia pensata per queste piattaforme. In Europa si è adottato un modello più temperato, in Europa si è scelto di far luogo, forte anche forse di una considerazione meno sacrale della libertà di espressione, a una direttiva, una direttiva sul commercio elettronico del 2000, a direttiva 2031, che individua invece un meccanismo diverso. Prevede sì che i prestatori di servizi non possano essere considerati responsabili per contenuti pubblicati dai loro utenti, a meno che non ne abbiano conoscenza effettiva. Nel momento in cui hanno conoscenza effettiva di contenuti illeciti, i prestatori di servizi si devono ad operare affinché quel contenuto sia rimosso. Laddove non provvedano in tal senso, saranno essi stessi responsabili per quel contenuto illecito. Al contempo, la stessa disciplina stabilisce un altro elemento fondamentale, cioè l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza, il che è esattamente il riflesso della volontà di rendere Internet un ecosistema tendenzialmente aperto, libero allo scambio e alla circolazione di idee ed è conforme altresì all'idea che i prestatori di servizi non debbano funzionare come degli editori che selezionano i contenuti da pubblicare, ma funzionano semplicemente come delle agorà digitali che si limitano essenzialmente a fare moderazione rispetto a segnalazioni di contenuti illeciti. Voi capite che c'è una differenza importante rispetto al modello statunitense. Anche questa regola giuridica, tuttavia, anche questo statuto giuridico europeo previsto per i prestatori di servizi ha ben presto iniziato a vacillare e il punto di caduta delle riflessioni non solo degli studiosi ma anche degli sforzi fatti dalle corti che hanno dovuto interpretare questa disciplina e le discipline nazionali di attuazione, ovviamente trattandosi di una direttiva, è rappresentato esattamente, come accennava il professor Torino nella sua introduzione, da quell'elemento della conoscenza effettiva. C'è, cioè, stata un'interpretazione che è andata affermandosi nella giurisprudenza volta a restringere sempre più l'area di applicazione dell'esenzione di responsabilità, valorizzando il fatto che oggi prestatori di servizi come Facebook, come Google, come YouTube hanno certamente una sensibilità ai contenuti maggiore rispetto a quella che non avevano vent'anni prima le piattaforme che erano presenti alla mente del legislatore quando scriveva quelle norme. È evidente che quello statuto giuridico era pensato, così come la Section 240 negli Stati Uniti, per una realtà profondamente diversa da quella che noi oggi conosciamo, sicché prevedere un regime di responsabilità come questo è evidentemente, secondo alcuni, fare un favore alle piattaforme. In realtà si tratta di una scelta anche qui fondata sull'esigenza di garantire in modo per lo più ampio la libertà di espressione, ma allo stesso tempo di una scelta che rispecchia una certa visione del ruolo di questi prestatori di servizi. Perché ho fatto questa introduzione sulla cornice legislativa? Perché oggi, di fronte a alcuni recenti episodi assolutamente importanti, assurti, direi con grande evidenza alle cronache, si discute se, non solo se questo regime giuridico sia ancora adeguato, e la risposta è probabilmente che non lo è, ma si discute anche se davvero possiamo pensare che questi soggetti siano dei semplici prestatori di servizi privati che agiscono nell'esercizio della loro libertà di iniziativa economica e che si limitano di fatto a erogare un servizio. Perché dico questo? Perché ovviamente, come comprenderete, le implicazioni derivanti dalla scelta di rimuovere dei contenuti o dalla scelta di oscurare un determinato profilo, sono certamente ben più marcate e importanti rispetto a quelle che noi potevamo vedere nella scelta di moderare un forum, per esempio vent'anni fa. Io ho la fortuna di aver visto Internet Nash, ricordo il Modem 56K e i forum che oggi sembrano essere scomparsi. I forum, ecco, come le prime comunità virtuali, dove evidentemente noi non percepivamo degli effetti escludenti qualora fossimo stati bannati da quelle comunità, perché per esempio in una forum in cui si parlava, che ne so, di calcio, qualcuno iniziava a parlare di fumetti. Noi potevamo dire c'è una regola della comunità, quella regola della comunità non viene rispettata, vengo escluso da quella comunità. Beh, non posso certamente dire che soffro di una esclusione dal mio diritto e quindi una limitazione al mio diritto alla libertà di espressione, perché quella comunità si autoregola, è una comunità privata e quindi ci sono dei termini da rispettare. Ecco, di fronte all'emersione di grandi piattaforme che hanno evidentemente anche dal punto di vista economico una posizione oligopolistica, che sono poche inevitabilmente, parliamo di Facebook, di Twitter e di pochi altri soggetti, per lo più social network all'interno della più ampia categoria dei prestatori di servizi digitali, la domanda è se ancora possiamo pensare che questi siano soggetti privati, che agiscono esclusivamente sulla base delle condizioni e dei termini di servizio e che quindi conservano una libertà di moderare, per esempio, determinati contenuti perché non rispettosi delle proprie policy. Ecco, questa è una domanda che è venuta in rilievo, per esempio, nella vicenda più recente che ha riguardato l'oscuramento dell'account di Donald Trump negli Stati Uniti. Come sapete, a seguito degli accadimenti di Capitol Hill all'epifania, tanto Twitter quanto Facebook hanno deciso di oscurare e di bloccare, addirittura diciamo senza un termine, quindi permanentemente, l'account di Donald Trump. Poi Facebook ha una sua struttura nota come l'Oversight Board che ha in parte rivisto questa decisione prevedendo che la sospensione debba in realtà essere valutata di volta in volta nel tempo e quindi soggetta a una sorta di revisione. Ma al di là di questo, voi comprendete come un caso come quello di Trump metta in evidenza in modo eclatante un conflitto tra il potere pubblico e il potere privato. Il potere in senso proprio, la figura politica di Donald Trump all'epoca presidente degli Stati Uniti d'America, forse il politico più importante al mondo, direi senza forse, e posizioni di potere prettamente economico, privato, che riposano nelle mani di prestatori di servizi. Chi la dura la vince, la vince Twitter, la vince Facebook, che da poteri privati sono in grado di escludere da queste comunità Trump. La domanda che ci dobbiamo porre, però, è un'altra. Al di là del fatto che questi soggetti agiscano in una veste pubblica o privata, davvero possiamo pensare a una esclusione, a una limitazione della libertà di espressione? Davvero possiamo pensare che l'oscuramento di un profilo determini una limitazione della libertà di manifestare il pensiero? Ecco, qui sta il vero punto critico. Per la loro funzione, assolutamente dirimente, se volete, nella circolazione di contenuti e di informazioni, i prestatori di servizi sono spesso equiparati a dei soggetti pubblici. Si dice sempre più che questi servizi dovrebbero essere equiparati a dei servizi pubblici, che i prestatori di servizi sono equiparabili a dei fornitori di pubblico servizio, quindi, e che sostanzialmente il loro modo di agire non potrebbe essere determinato da una razionalità prettamente, diciamo, economica e quindi sulla base di una relazione di diritto privato che intercorre con gli utenti che sottoscrivono un contratto con quella piattaforma, ma sulla base di logiche più ampie. Perché? Perché si ritiene che evidentemente quelle piattaforme diventano una, se volete, la controparte dell'esercizio della libertà di espressione ed escludendo determinati utenti siano in grado di condizionare l'esercizio di questa libertà. Questo è un tema molto delicato, perché noi siamo abituati a pensare alla libertà di espressione in termini tendenzialmente verticali, come un diritto e come ogni diritto privato fonda e ripete la sua reivindicazione essenzialmente nel rapporto con l'autorità, con il potere pubblico, non nel rapporto con il potere privato. E quindi vi è un dibattito assai sentito, devo dire molto partecipato anche a livello dottrinale, che riguarda la possibilità di estendere ai rapporti di diritto privato, ai rapporti prettamente orizzontali degli effetti delle norme costituzionali. Da qui deriva la possibilità di ritenere che i prestatori di servizio siano davvero dei prestatori di servizi pubblici. Ci sono state delle decisioni giurisprudenziali che non ho il tempo in questa sede di rassegnare, ma che vi accenno soltanto, che hanno partorito qualche esito in qualche modo interessante e se volete significativo, ma che non hanno certamente sciolto questo nodo. Negli Stati Uniti la vicenda di Trump è senz'altro una vicenda emblematica, c'è stata una, peraltro un'opinione del giudice di un giudice della Corte Suprema recentemente che ha proprio messo in evidenza la difficoltà di pensare che un prestatore di servizi possa censurare il Presidente degli Stati Uniti di America, quando anche vi siano ragioni, come nel caso probabilmente delle esternazioni fatte da Trump in occasione degli attacchi di Capitol Hill, fondate per escludere la libertà di espressione, perché probabilmente quello che ha detto Trump in quell'occasione non era coperto dal primo emendamento, erano inciting words, erano diciamo discorsi d'odio che non avevano motivo di circolare, ma in ogni caso che una piattaforma privata possa condizionare così largamente la sfera pubblica è davvero un tema importante. Negli Stati Uniti però ci sono state delle decisioni anche diverse che hanno riguardato per esempio la possibilità di qualificare un YouTube come un attore pubblico e quindi garantire la libertà di espressione nel rapporto tra l'utente e YouTube, così da eliminare un margine di discrezionalità che YouTube invece può conservare come soggetto privato, perché la verità è che il punto di differenziazione tra queste due possibili qualificazioni, l'una in senso privatistico, l'altra in senso pubblicistico, è data se volete dalla margine di autonomia di cui queste piattaforme dispongono nel moderare contenuti. Moderare contenuti può significare anche eliminare contenuti che non sono necessariamente illeciti secondo l'ordinamento giuridico. Pensate a tutto il dibattito che riguarda la disinformazione. La disinformazione non integra necessariamente una violazione nell'ordinamento giuridico, ma una piattaforma potrebbe ritenere di eliminare dei contenuti che costituiscono disinformazione perché ritenga poco desiderabili quei contenuti. E così anche i discorsi d'odio sono, attenzione, non fraintendetemi, meritano la più ampia censura, meritano il più ampio dissenso e la più ampia disapprovazione, ma talvolta è difficile distinguere tra determinati discorsi che sono mera propaganda politica e discorsi che sono davvero incitazione all'odio. Ci sono casi nei quali non abbiamo dubbi, va da sé, ma talvolta è un crinale molto difficoltoso. E allora qual è il punto che voglio sottolineare e mi avvio anche a concludere? Che naturalmente una piattaforma finché vive nel rapporto con gli utenti secondo regole di diritto privato potrà tendenzialmente applicare anche degli standard più rigorosi alla moderazione dei contenuti. Potrà anche eliminare contenuti che non siano necessariamente contrari all'ordinamento giuridico e che siano però contrari alle sue policy, ai suoi termini di servizio. Se invece noi aderiamo all'idea che viene, come vi dicevo, prospettata di una qualificazione in senso pubblicistico, a quel punto noi inseriamo nella dinamica interprivata tra utente e prestatore di servizi la libertà di espressione. Inseriamo quella libertà in quel rapporto e inevitabilmente questo implica inchiodare il prestatore di servizi non più semplicemente ai suoi termini e alle sue condizioni di servizio, ma alle stesse condizioni alle quali un giudice potrebbe limitare la libertà di espressione facendo evidentemente applicazione delle norme dell'ordinamento. a quel punto elimineremmo il margine discrezionale che la piattaforma ha, perché la piattaforma si deve comportare esattamente come un attore pubblico, come lo Stato. Non può comprimere la libertà di espressione in maniera illegittima quando non vi siano delle violazioni. Ecco perché capire se ha senso qualificare questi soggetti come soggetti pubblici è davvero un tema centrale rispetto alle prospettive di riforma che noi oggi possiamo valutare. In Italia abbiamo avuto la dimostrazione della difficoltà di questo tema e direi anche della difficoltà soprattutto in relazione proprio alle speech e ai discorsi d'odio in tre ordinanze che il Tribunale di Roma ha adottato rispetto alla chiusura della pagina Facebook di Casa Pound, di alcuni suoi attivisti e di Forza Nuova, dove il Tribunale di Roma ha adottato decisioni diverse. Questo dimostra la scarsa capacità talvolta di comprensione da parte delle corti, delle tematiche che stanno sottese a questi problemi, ma anche direi un certo disorientamento che mi permetto di dire è senz'altro comprensibile. Perché hanno adottato decisioni diverse? Perché in un caso si è ritenuto che la sospensione dell'account e che l'oscuramento della pagina fosse qualcosa di eccessivo, perché Facebook oggi è la nuova agora digitale, è un soggetto che inevitabilmente svolge una funzione anche socialmente rilevante e quindi non può atteggiarsi con un semplice soggetto privato. E quindi si è censurata la decisione di oscurare la pagina. In un'altra decisione si è censurata la decisione di oscurare la pagina, ma si è detto attenzione Facebook non è un soggetto pubblico, semplicemente nella relazione con l'utente, quindi in quel rapporto di diritto privato, la libertà di espressione conserva un suo spazio, nel senso che ovviamente sarebbe più opportuno che sia un giudice a dichiarare che quel contenuto sia contrario all'ordinamento e Facebook esegua la rimozione, non che Facebook anticipi una decisione che competerebbe a un giudice. E un'ultima decisione ha invece ritenuto, riguardava qui invece Forza Nuova, che Facebook non solo avesse ben operato oscurando la pagina di Forza Nuova, ma che quella condotta fosse giuridicamente doverosa, perché? Perché proprio richiamando il quadro giuridico che accennavo in apertura, la conoscenza effettiva di un contenuto lecito, i contenuti pubblicati sulla pagina di Forza Nuova, a giudizio del giudice, Facebook non solo avrebbe dovuto, ma avrebbe dovuto attivarsi, altrimenti ne avrebbe risposto come in qualche modo concorrente nel lecito legato ai contenuti pubblicati. Comprendete che sottese a queste decisioni vi sono veramente delle problematiche enormi. Vi dicevo la proposta europea è una proposta che va nel senso di una modernizzazione del quadro giuridico, differenziando le regole applicabili a seconda della tipologia di servizio e isolando le grandi piattaforme digitali in una categoria, le piattaforme online di grandi dimensioni, alle quali sembrerebbero applicarsi degli obblighi più stringenti. Ma il vero nucleo rilevante a mio avviso non è la scelta di una qualificazione pubblicistica che ritengo sia da rigettare, è piuttosto la trasparenza. E perché concludo su questo? Perché noi abbiamo vissuto un web nel quale, in consonanza con lo spirito statunitense, le piattaforme hanno sì fatto un po' quello che volevano, va riconosciuto. Ma questo ha consentito a noi di avere oggi piattaforme Facebook come YouTube, soggetti che non hanno una responsabilità editoriale, che consentono agli utenti di pubblicare liberamente contenuti e se noi insinuassimo una qualificazione in senso pubblicistico, attenzione perché le conseguenze potrebbero essere forse più, diciamo, dannose che di beneficio. Perché? Perché, dicevo poc'anzi, vi sono fatti specie come la disinformazione e alcuni discorsi di propaganda che non sono, come dire, discorsi d'odio magari, ma lambiscono i confini dei discorsi d'odio, che non sono illeciti. Ebbene, se noi ritenessimo opportuno applicare una qualificazione in senso pubblicistico a questi soggetti, in modo da limitare il loro potere di manovra, il risultato a cui perverremo sarebbe quello di limitare la possibilità di intervento di questi soggetti rispetto ad ambiti come la disinformazione, come i discorsi d'odio, che hanno una definizione spesso molto ambigua, magari non hanno nemmeno una definizione precisa nell'ordinamento giuridico. E questo renderebbe probabilmente il web un luogo più disordinato. Ora, vi è molto caos nel web, anche nello status quo, questo è fuori di discussione, ma è vero anche che probabilmente queste conseguenze finirebbero per rendere il web forse ancora meno ordinato di come noi lo possiamo vedere ora. Io credo che ci sia un'alternativa secca che dobbiamo considerare, e qui chiudo, un web più democratico e un web più ordinato. Non credo sia possibile riconciliare questi due elementi, ma ritengo che la trasparenza possa senz'altro aiutare e il DSA sembra andare in questa direzione. Vi ringrazio. Grazie, grazie Marco per questo veramente lucido, chiaro inquadramento dei temi giuridici principali relativi alla libertà di espressione online. Devo dire che, come tu hai sottolineato, il tema è estremamente complesso e la soluzione non è a portata di mano. A me vengono solo in mente un paio di osservazioni. In primo luogo, che non possono non essere prese in esame quando si considera la libertà di espressione online, cioè se ciascuno di noi ha un diritto ad esprimersi online, perché è discutibile. La libertà di espressione intanto esiste se io ho diritto ad esprimermi online. Se non ho diritto ad esprimermi online, quindi non è un mio diritto fondamentale, qui potremmo discutere se è un diritto fondamentale accedere ad internet, allora potrebbe prendere una curvatura differente la soluzione. Ovviamente centrale, come dici tu, è la decisione se internet e le grandi piattaforme siano soggetti parapubblici e qui vedo una pericolosa deriva ad una pubblicizzazione strisciante di questi soggetti, che ha tutta una serie di conseguenze che ovviamente tu hai sottolineato. Però ancora una volta non voglio togliere tempo alla relatrice successiva, cioè alla nostra Alessandra Coppola, che è appunto vicepresidente del No Hate Speech Movement Italia, che collabora anche a vari progetti di cittadinanza digitale e la vorrei sentire su dei profili che apparentemente possono sembrare meno di ricostruzione generale dell'ecosistema digitale, ma che poi sono la vita di tutti i giorni, di tutti noi cittadini che usiamo di internet e che ci espongono evidentemente a quelle pratiche che tu stesso Marco hai sottolineato possono essere difficili da determinare se sono discorsi di odio o meno e quindi per far capire a chi ci ascolta, a chi ci sta seguendo in questo momento, a chi ci guarda, mi sembra quasi di stare in radio scusate, che cosa effettivamente si può fare per contrastare questi fenomeni così fastidiosi al minimo, ma gravi in alcuni casi. Grazie Alessandra, a te la parola. Grazie, buongiorno, vi ringrazio per avermi invitata a questo webinar, sono molto felice anche di aver potuto ascoltare prima l'intervento del dottor Marco Bassini, che è stato davvero comprensivo, molto chiaro e anche molto ben inquadrato rispetto a tutta la parte di inquadramento legale del fenomeno. Io mi chiamo Alessandra Coppola, sono laureata in scienze politiche, ho una traiettoria internazionale che inizia dal 2010, che mi ha portato a vivere, con la mia cittadinanza europea e anche con la digitale, in maniera molto estensiva, molto estesa. Ho vissuto e lavorato in diversi paesi europei e ho collaborato con il Consiglio d'Europa a partire dal 2014-2015, proprio in relazione a quella che è l'iniziativa nominata No Hate Speech Movement, il movimento di contrasto ai discorsi dell'odio, che è un'iniziativa che è nata all'indomani del massacro di Utoia del 22 luglio del 2011. In quell'occasione persero la vita circa 70 persone, di cui la maggior parte giovani, che si trovavano appunto su quest'isola di Utoia per un camp, un camp estivo, durante il quale avrebbero discusso della loro visione progressista della società e quindi una visione che puntava al multiculturalismo come un elemento di ricchezza, un elemento evolutivo della società e per questo motivo sono stati target di un crimine d'odio da parte di un giovane, Anders Preivik, che si era radicalizzato durante gli anni e aveva orchestrato da solo questo suo piano basato sulla convinzione di voler salvare l'Europa e il suo paese in primis da questa deriva dei valori che avrebbe portato l'Europa a perdere la sua radice cristiana, la sua radice occidentale basata appunto non su un multiculturalismo accogliente rispetto alle diverse identità e visioni. Questo è importante perché questo fu il primo crimine d'odio contro giovani in quanto tali, espressamente riconosciuto a livello internazionale e che vide praticamente il coinvolgimento delle piattaforme digitali nella sua preparazione e nella sua diffusione, tanto prima del crimine stesso quanto dopo il crimine stesso, in quanto siamo nel 2011, Anders Preivik crea questo suo manifesto e lo pubblica su diversi blog ma anche lo fa circolare su Facebook. Ora ricordiamoci come dicevamo prima, nel 2011 siamo in un periodo ancora iniziale anche della diffusione dei social network in particolare in questo caso Facebook che nasce appunto nel 2004, si diffonde in Italia dal 2008 in poi quindi diciamo era appunto nelle sue fasi iniziali rispetto all'uso del social network non più come uno spazio virtuale ma come una piattaforma reale di scambio e di interrelazione proprio fattiva con gli altri utenti. Ecco, questo è importante da sottolineare perché abbiamo visto l'evoluzione dal concetto di internet, piattaforme digitali come spazio appunto virtuale, come appunto uno spazio alias rispetto alla vita fisica offline fino ad arrivare invece adesso a considerare le piattaforme digitali e social network come uno spazio non più virtuale, bensì reale e integrato in maniera complementare con la vita fisica, con il mondo offline e questo si è visto in maniera lampante e chiara in particolare durante i periodi di più stretta pandemia e di lockdown che abbiamo appena trascorso. Ora, questo crimine d'odio ha prodotto la reazione del Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa al cui interno c'è un sistema di co-management insieme all'Advisory Council Newt, quindi il Consiglio di supporto composto da giovani che rappresentano le organizzazioni europee internazionali perché stiamo parlando appunto del Consiglio d'Europa, ovvero l'organizzazione internazionale preposta a tutela e promozione dei diritti umani che in reazione a questo crimine sperato decide di promuovere come azione una campagna globale che è stata attivata in 45 stati anche oltre al di là degli stati del Consiglio d'Europa, quindi anche ad esempio in Canada, in Messico, in Marocco, quindi tutti quegli stati che hanno voluto volontariamente aderire, sono stati creati i National Campaign Committees di questa campagna globale nominata No Hate Speech Movement. Stiamo parlando di un periodo in cui il fenomeno dell'Hate Speech non era ancora comune e dibattuto come lo è adesso, quindi possiamo dire che si sia trattato di una delle prime iniziative globali, specialmente a livello del filone della gioventù intraprese. Come funzionava, come ha funzionato questa campagna nella quale sono stata coinvolta a partire dal 2014? Nei primi tre anni di campagna, quindi 2013-2015, lo sguardo è stato rivolto e l'azione maggiormente a due tipologie di interventi, quindi contrasto e prevenzione. La parte della prevenzione è stata realizzata attraverso masticci interventi educativi, quindi l'educazione ai diritti umani per il contrasto all'odio applicato in ambiente fisico e in ambiente digitale, online e offline, attraverso delle tecniche di educazione non formale. Quindi preparazione degli educatori, dei formatori, degli youth worker, degli insegnanti, di tutti coloro che lavorassero a stretto contatto con giovani e con studenti, ma dopo sono state coinvolte anche le forze dell'ordine, tutti quei soggetti che lavorano con target group a rischio di discriminazione ed hate crime. Quindi per preparare, formare le persone su cosa significhi late speech, qual è il limite tra discorso d'odio e libertà di espressione, in quali casi il discorso d'odio in uno specifico sistema giuridico diventa anche un reato e quando questo non lo sia. Ricordiamo, come ha già detto il professor Bassini, che non c'è una definizione giuridica unica, volevole per tutti i paesi del Consiglio d'Europa o dell'Unione Europea, è che il riconoscimento di questo crimine all'interno dei diversi sistemi giuridici è molto differente da paese a paese. Ad esempio in Germania esiste una codifica di questo crimine, in Italia non esiste. Per cui è molto complesso lavorare a livello internazionale su questo tema e quello che si può fare è portare avanti, prendere a riferimento delle raccomandazioni che noi abbiamo dal Consiglio d'Europa, la vecchia raccomandazione del 1997, ma ripresa nella raccomandazione del 2015 dell'ECRI, il Comitato contro le discriminazioni e l'intolleranza, che ci hanno dato un quadro di riferimento su cosa fosse considerato age speech o meno. Quindi noi lavoravamo tutto completamente in digitale, eravamo più o meno 70 European online activist di diversi paesi del mondo, con diversi gruppi nazionali poi coordinati, che facevano sostanzialmente due cose all'inizio. Quindi formazione per prevenire la formazione di discorsi d'odio e anche educazione ai diritti umani per le nuove generazioni, in particolare i nativi digitali che non per questo sono anche educati all'uso dello strumento digitale, per il solo fatto di essere nati nel periodo di tempo in cui questi media hanno cominciato a far parte integrale della vita quotidiana, per cui abbiamo fatto insieme anche parte di educazione ai media, educazione mediale, media literacy. L'altra attività importante era quella del contrasto, ovvero del reporting internazionale di contenuti d'odio, in che maniera, visto che non esiste appunto un'autorità sovranazionale competente su questo tipo di fenomeni. Il nostro sistema, chiamato Hate Speech Watch, era appunto una sorta di osservatorio attraverso il quale potevano essere segnalati contenuti potenzialmente considerati di odio, quindi funzionava come una specie di check, checkpoint, attraverso il quale noi ricevevamo le segnalazioni appunto potenzialmente da tutto il mondo nella lingua originale, quindi compilando un form dove veniva allegato il link allo specifico contenuto, la spiegazione del contesto, quale fosse la lingua originaria, in che contesto si era verificato quel discorso d'odio e questo contenuto veniva smistato all'attivista che potesse, diciamo, lavorare questo contenuto a livello linguistico, perché ad esempio conosceva la lingua madre di questo contesto, ma anche proprio il contesto socioculturale, perché la grossa difficoltà anche di inquadrare un contenuto come Hate Speech o meno è relativo anche a tutto il contesto socioculturale nel quale è inserito, è relativo anche al tono che molte volte appunto attraverso un commento scritto è difficile da intendere e tutti questi elementi all'epoca nel 2011 sfuggivano ad un'analisi approfondita fatta attraverso ad esempio algoritmi che spesse volte non restituivano un esito positivo rispetto a un contenuto d'odio per il sol fatto che non fossero stati usati, non fossero state usate delle parole, come dire, espressamente violente. È stato però subito notato questo, diciamo, malfunzionamento di questi algoritmi iniziali che chiaramente erano anche i primi strumenti pilota che erano a nostra disposizione. Per cui noi all'inizio, nel 2013-14-15, lavoravamo manualmente tutti i commenti che arrivavano attraverso le Hate Speech Watch e restituivamo una sorta di risponso, ovvero sì, dal nostro punto di vista questo è un contenuto d'odio, no, non lo è. E poi restituivamo anche una possibile violazione successiva, ovvero andavamo ad individuare se nel paese in cui questa azione, questo contenuto d'odio si era verificato, fosse in miglior una normativa alla quale poter fare riferimento o uno specifico ufficio, un corpo di polizia presso il quale poter denunciare questa violazione. Chiaramente questo era una cosa, questa era una cosa fattibile quando il contenuto d'odio, quindi anche late happening, avveniva fuori dalle piattaforme social, perché come sappiamo i social network invece non hanno strettamente una appartenenza a una univoca territoriale, quindi era più complesso poi risalire a quale fosse l'autorità a cui rivolgersi per denunciare quel contenuto d'odio, qualora esistesse una normativa a riguardo. Dopo questi primi due anni di attivismo, nel 2015, la campagna avrebbe dovuto terminare il suo corso a livello internazionale e trasferirsi a livello nazionale. Ciò non è avvenuto perché nel 2015 purtroppo abbiamo vissuto quel lungo periodo di attacchi terroristici, il periodo di Charlie Hebdo e di tutti gli attentati accaduti, in particolare in centro Europa, per cui il segretario generale del Consiglio d'Europa decise di estendere per ulteriori due anni la nostra campagna, quindi fino al 2017. Ma è stata condotta una riflessione all'interno del movimento sulla necessità di sviluppare un ulteriore strumento che affiancasse quello di prevenzione e quello di contrasto. Quindi per la prevenzione noi avevamo un manuale chiamato Bookmarks, che è stato tradotto in tante lingue, lo trovate sul sito della campagna, vi metterò anche dei link in chat e poi avevamo Light Speech Watch. Era necessario un nuovo strumento, per cui nel 2016 il Consiglio d'Europa sviluppò insieme a degli esperti il manuale Weekend, Counter and Alternative Narratives, ovvero che ho qui, ve lo faccio vedere in cartaceo, lo potete scaricare gratuitamente sempre dal link che vi metterò in chat. È un manuale che riflette su una terza opzione di intervento, ovvero, ok, noi come attivisti lavoriamo per evitare che il fenomeno si produca, una volta prodotto lavoriamo affinché venga in qualche modo perseguito, qualora perseguibile. Cosa fare? Cos'altro possiamo fare se non rientriamo in questi due momenti di evoluzione del fenomeno? Ovvero, il fenomeno si è già verificato, il fenomeno non è perseguibile per legge nel mio paese perché non c'è una legge specifica, cosa altro posso fare? E qui che entra in gioco quindi è l'azione di contronarrazione e narrazione alternativa. Questi due termini vengono spesso usati come sinonimi, perché in parte sono correlati ma non sono indicativi della stessa tipologia di azione, almeno per quanto riguarda il nostro tipo di attivismo, quando noi parliamo di contronarrazione, parliamo di un'azione immediata che si rivolge a un caso specifico, in un momento specifico, in via a bloccare l'escalation di odio connessa a quel contenuto che potrebbe anche facilmente riversarsi in un crimine d'odio se questa escalation non viene bloccata. Quindi parliamo di contenuti estemporanei, di contenuti brevi, rapidi e che siano il più possibile universalmente comprensibili. Quindi ad esempio non parliamo di un report che va a ribaltare dei dati che dimostrino che ad esempio i migranti non ci stanno invadendo, ma parliamo ad esempio di un meme, di una gif, di un infocard che blocchi in quel momento il moltiplicarsi di quel contenuto discriminatorio e d'odio e generi anche un po' un effetto di blame, di ridicolizzazione, di perdita di trust, cioè di credibilità da parte dell'hater. Questa è un'azione di contronarrazione per noi rispetto al nostro metodo attivista. Invece un'azione di alternative narrative, quindi narrazione alternativa, è un'azione di più lungo periodo che mira a controvertire la considerazione di quello specifico caso di discriminazione di hate speech nel lungo periodo nella società in generale. Quindi ad esempio rispondere all'affermazione i migranti ci stanno invadendo con appunto un paper, un report, una raccolta dati che metta in evidenza l'insussistenza e l'infondatezza di questa affermazione. Come vedete sono due attività diverse, ma che dovrebbero integrarsi, perché una ha un effetto immediato di stop dell'escalation di odio, la seconda invece mira a creare un cambio di mindset, quindi di proprio visione globale rispetto al tema nella società a più ampio raggio. Quindi queste due strategie dovrebbero essere usate insieme. Ultimamente, a partire dal 2020, proprio in concomitanza con l'anno della pandemia, il Consiglio d'Europa ha deciso di iniziare un'ulteriore attività che portasse la produzione di un nuovo strumento in digitale per l'attivismo, quindi che rendesse molto semplice, immediato e user friendly, ecco, un po' questa versione di manualistica e cartacea, come vedete, che era più adatta per l'attività in presenza offline, creando invece uno strumento completamente in digitale, quindi un toolkit digitale per la contronarrazione e narrazione alternativa. Questa cosa è avvenuta e sta avvenendo in questi anni attraverso il progetto Weekend for Human Rights Speech, finanziato dalla DG Justice della Commissione Europea attraverso un progetto REC, di cui il Consiglio d'Europa Antidiscrimination Department è capofila, di cui la mia organizzazione che si chiama Atice e Partner, in cui il No Expeach Movement Italia è coinvolto. Questo progetto ci ha dato la possibilità di sviluppare questo toolkit che sarà a breve disponibile anche in italiano, vi metto già qui il link così è più chiaro di cosa stiamo parlando. Questo è un toolkit in tre, diciamo, in tre parti, per cui abbiamo la parte di analisi, analyze, la parte di develop, quindi una guida step by step su come creare un contenuto di contronarrazione, e la parte relativa a communicate, cioè come comunicare il nostro contenuto di contronarrazione, perché dobbiamo ricordarci che l'attivismo prevede anche un'esposizione dell'attivista stesso a potenziali attacchi da parte di haters, quindi come comunicare bene in maniera efficace la nostra posizione, cercare di ribaltare la situazione, ma non diventare noi stessi dei target di hate speech o di hate crime. Questi tre pilastri di questo nuovo strumento sono ben descritti e sono molto molto ricchi di dettagli e di anche strumenti digitali adattati al metodo di lavoro attuale, perché ricordiamoci che lavorare in ambiente digitale non significa semplicemente utilizzare una webcam e fare delle riunioni online facendo le stesse cose che avremmo fatto offline. Lavorare in ambiente digitale significa adattare proprio tutta la modalità di engagement, tutta la modalità di interazione con l'utenza, in modo da riuscire a ottenere in maniera efficace dei prodotti che siano anche completamente safe dal punto di vista del contenuto basato sui diritti umani. Perché è una cosa fondamentale per noi non rispondere mai a un contenuto d'odio perpetrando un atteggiamento che possa sviluppare ulteriore contenuto di odio. Quindi, per dirla in maniera breve, non risponderemo mai a un hater dicendo, no, tu stai sbagliando, no, tu sei un hater, oppure no, quello che dici è una violazione. È un comportamento improduttivo, è un comportamento che normalmente genera un escalation di odio e non propone una narrazione alternativa basata su un discorso che valorizza i diritti umani. Per cui, come si fa tutto questo? Ecco, se voi andate ad esplorare questi tre strumenti, proprio come elemento di entrata al toolkit avrete un quiz per capire qual è il vostro livello di base rispetto alle competenze digitali per poter agire da attivista nell'ambito, nell'online. Perché qualora non avesse un livello di competenze digitali di base sufficienti per poter intraprendere questa attività, vi verrebbe consigliato vivamente, ecco, prima di familiarizzare con le piattaforme digitali. Perché come nessuno si sognerebbe di mettersi alla guida di un'automobile senza avere la patente, senza saper guidare l'auto, ecco, dovremmo essere più cauti nell'utilizzo di strumenti digitali per l'utilizzo dei quali non abbiamo sufficienti competenze, perché questo potrebbe tramutarsi in un pericolo per noi e in un effetto negativo rispetto agli altri utenti. Per cui, una volta conosciuto qual è il nostro livello di base per poter intraprendere un'azione di attivismo in contronarrazione, veniamo guidati passo passo attraverso questo tool per analizzare il contenuto d'odio, per decostruirlo, quindi comprendere quali siano le dinamiche, quali siano i tipi di discriminazione inclusi, quali sia la relazione di potere tra gli speaker e il target group, tutti questi elementi che fanno intendere dove si origini il discorso d'odio nel caso che abbiamo di fronte. Da lì potremo produrre il nostro contenuto di contronarrazione seguendo il tool develop e poi applicare una strategia di comunicazione utilizzando il tool communicate. Ecco, tutto questo discorso fa parte appunto della pratica, mi avvia la conclusione di che cosa può fare un giovane, un utente, un attivista, auto apprendendo, quindi formandosi su come comportarsi in rete anche in assenza di una normativa strettamente stringente o comunque precisa su questo tipo di fenomeni. Chiudo questo mio intervento consigliandovi di seguire l'evoluzione di quello che è il dialogo sull'internet governance. Esiste un evento internazionale molto importante che si verifica ogni anno che si chiama Eurodig, European Dialogue on Internet Governance, dove vengono a ritrovarsi, ecco, a confluire le piattaforme digitali, i media, i governi, le organizzazioni internazionali, il Consiglio d'Europa, la Commissione europea e anche la società civile. All'interno di Eurodig c'è una componente giovanile che si chiama Youthdig che può partecipare a questo dialogo promuovendo istanze importanti per la salvaguardia dei diritti umani nell'ambiente digitale. E l'ultima cosa che vi segnalo invece è IGF, l'Internet Governance Forum, che è un forum istituito dalle Nazioni Unite nel 2006, che ogni anno appunto dibatte sullo stato dell'arte della governance di Internet. Tutto questo è correlato con ciò che ci spiegava il dottor Bassetti, adesso metterò tutti i link, appena smetterò di parlare, e anche qui si tratta di partecipare online, in questo momento è aperta la call for issues, quindi potete proporre temi che vi sono cari affinché vengano discorsi, sia dal gruppo giovanile, anche qui YouthIGF, in cui la nostra campagna è rappresentata, sia poi in Eurodig. Quindi questo è tutto ciò che vi volevo raccontare, vi lascerò tutti i link così che possiate andare a guardare quello che è successo durante la campagna, No Edge Speech Movement, nel No Edge Speech Movement Italia, il Toolkit e questi due forum importanti sull'Internet Governance. Vi ringrazio. Grazie a te Alessandra, è stata veramente una relazione per me molto interessante e che evidentemente stimola tutti noi a cercare di essere attivisti online rispetto ai discorsi d'odio. Io penso che la tua relazione insieme a quella di Marco Bassini abbiano affrontato due modi diversi di contrastare delle pratiche più o meno illecite, giuridicamente o illecite solo eticamente, mettiamola così. Marco ha sicuramente inquadrato il tema sotto il profilo della responsabilità delle grandi piattaforme, dei social, tu hai guardato al tema sotto il profilo di quello che possiamo fare ciascuno di noi per contrastare evidentemente espressioni di odio, siano esse più o meno perseguibili sotto un profilo giuridico. Quindi abbiamo avuto sia un approccio più top down, sia un approccio più dal basso, dove ciascuno di noi evidentemente non deve considerarsi un ingranaggio inutile in questa grande massa di dati e di persone che è dato dall'ecosistema digitale e da internet. Quindi grazie veramente anche a te, sono state due relazioni che a mio avviso si sono ben coordinate e completate rispetto all'oggetto del nostro primo webinar di cui sono molto contento. Ma ovviamente speriamo anche di aver stimolato in qualche misura l'interesse dei nostri, di coloro che ci hanno seguito e vorrei verificare se ci sono delle domande per te o per Marco Bassini. Altrimenti come al solito in questi momenti rompo io il ghiaccio e inizierei da una domanda che faccio anzitutto a te, per poi passare una domanda a Marco. Tu ci hai spiegato che sei stata molto intensamente occupata in questi anni, ma ci puoi fare un esempio concreto di contronarrazione su uno specifico caso in modo che ci rendiamo conto anche meglio di come si possa combattere da parte di ciascuno di noi delle ipotesi di hate speech, proprio non voglio dire con nomi e cognomi, ma con proprio calandoci nella realtà. Il tempo a disposizione non è molto, quindi ti chiederei di essere anche sintetica. E poi ho una domanda per Marco, va da sé. Allora, potrei raccontarvi di un caso specifico a livello internazionale che forse può essere appunto conosciuto da diverse persone, ovvero il caso del MEP del parlamentare polacco, che in sede di Assemblea di Parlamento Europeo e in prossimità dell'8 marzo dichiarò che è normale che le donne vengano pagate meno degli uomini, in quanto sono più piccole, più deboli e meno portate a lavori dirigenziali. Questo causò, come ricorderete, un'andata di disapprovazione e di sgomento e in quel momento poi il parlamentare fu sospeso, ma dal momento in cui accade questo alla sua sospensione, passò del tempo in mezzo e il Night Speech Movement a livello globale intervenne con un'azione di contronarrazione e in che modo? Abbiamo preparato una immagine che era praticamente sul modello dell'immagine che si trova sul pacchetto delle sigarette, quella è il fumo nuoce gravemente alla salute, modificata con la frase il sessismo nuoce gravemente alla salute mentale. La strategia fu quella di, prima di tutto abbiamo verificato che i social media di questo parlamentare, quindi parliamo della pagina Facebook ad esempio, fossero liberi rispetto alla posizione di commenti, in quanto la moderazione, che adesso è molto comune, poco tempo fa non era ancora un'azione comune di tutti i gestori di pagine Facebook, per cui abbiamo verificato che la pagina era aperta da moderazione, il che significa che postando un contenuto veniva automaticamente pubblicato sulla banca che quindi era visibile. Che cosa abbiamo fatto? Dopo aver verificato ciò, ovvero abbiamo provato a scrivere un commento ed è apparso e poi l'abbiamo cancellato, abbiamo fatto un'azione coordinata dai diversi paesi, dai diversi attivisti, postando questa etichetta sotto tutti i commenti sessisti di questo parlamentare sulla sua pagina Facebook a ripetizione, in diversi fusi orari, in diversi paesi, in modo da generare un'attenzione su quella pagina, un thread che si è alzato e abbiamo cominciato a report, cioè a segnalare la pagina Facebook a Facebook stesso. Quest'azione di segnalazione della pagina per contenuti di odio è un'azione recente, fino a qualche anno fa non esisteva, quindi abbiamo fatto questa doppia azione finché i contenuti di questo parlamentare sono stati cancellati dalla pagina per questa ondata come dire di attivismo che è accaduto e poi il parlamentare stesso nei giorni successivi è stato sospeso. Questa è stata un'azione molto efficace perché ha generato un'attenzione verso quella pagina in quanto ha portato appunto la pagina Facebook a essere molto visualizzata e quindi con tutto anche il thread di commenti che ci sono stati, per cui ha aumentato visibilmente le reazioni di rifiuto, di sconcerto rispetto alla posizione di questo parlamentare. Quindi anche a livello politico, proprio il partito di questo parlamentare, ha dovuto prendere una posizione anche in reazione appunto dei cittadini della rete. Quindi questo è un esempio internazionale. Poi ve ne sono anche tanti altri a livello nazionale. Se volete basta andare a guardare la nostra pagina Facebook e li trovate. Grazie, grazie Alessandra. Allora vedo che ci sono alcune domande già sulla chat e una anticipa anche un po' quello che volevo chiedere a Marco Bassini. Abbiamo visto che esistono quantomeno due modelli, il modello europeo che forse si basa su una concettualizzazione non sacrale della libertà di espressione, che va verso una coregolazione, al di là di quello che poi questo concreterà, un modello statunitense invece che considera tutt'oggi la libertà di espressione un elemento centrale, ma in cui il Presidente degli Stati Uniti è stato comunque oscurato. Ora, questa però diversità di modelli si scontra con un dato di fatto, cioè che l'ecosistema digitale, l'online è globale. Oggettivamente adesso non so se è così globale da penetrare anche dei muri che la Cina o altri paesi cercano di alzare rispetto alla circolazione delle manifestazioni del pensiero online. E volevo allora chiedere a Marco, seguendo anche un po' l'invito di Antonino Mallamaci, che ha fatto la domanda, se esistono dei luoghi e dei tentativi di coordinarsi a livello internazionale, cioè di creare una, anche prima Alessandra citava l'Internet Governance Forum, se esistono dei modi per cercare di agire sul livello più ampio che macro regionale. Marco a te questa risposta. Sicuramente ci sono dei crescenti richiami alla consapevolezza su questi temi e alla necessità di provvedere in qualche modo. Devo dire che dal punto di vista dei forai internazionali, delle possibili forme di concertazione, è molto difficile pensare di poter ridurre la complessità delle differenze che si osservano su questo terreno. Negli Stati Uniti pensare anche solo per esempio di determinare la cancellazione dei risultati dai motori di ricerca, che è qualcosa che noi in Europa conosciamo molto bene, è totalmente impensabile, nel senso che è qualcosa che non viene proprio considerato come un rimedio, perché non c'è ragione di immaginare la tutela dei dati personali sulla libertà di espressione. Questo è un esempio, ma è un esempio che racconta il grado di resistenza che quel sistema pone, che ci sia una capacità di poter andare oltre grazie agli impegni di queste piattaforme, sicuramente, però siamo sempre su un terreno di autoregolamentazione o tutt'al più di coregolamentazione. Io personalmente ho qualche timore sulla regolamentazione, diciamo, sull'hard law e ho anche qualche timore, lo dico senza diciamo problemi, anche se poi so che naturalmente c'è sempre una, come dire, sembra che io faccia un po' il difensore delle piattaforme, ma credo che questa considerazione sia un po' più profonda. Starei molto attento a pensare che serva una regolamentazione più stringente, e questo lo dico non perché le regole attuali, le abbiamo viste, sono inadeguate e vanno senz'altro rafforzate. Il problema è il verso, perché io penso che la dimensione della trasparenza sia molto utile, molto utile perché, per esempio, vengono utilizzate spesso nuove tecnologie come quelle algoritmiche, l'intelligenza artificiale, per far luogo alla moderazione di contenuti e questo crea un corrispondente, diciamo, un'aspettativa di trasparenza da parte degli utenti, crea, se volete, anche, secondo me, una sorta di responsabilità diffusa da parte di questi prestatori a rendere note le modalità con le quali intervengono sui contenuti, ma che una regolamentazione si possa spingere al piano dei contenuti o a come i prestatori di servizi dovrebbero atteggiarsi rispetto ai contenuti, io ho qualche dubbio rispetto a questo tema, non vorrei mai che si concretizzassero risultati, diciamo, che piacciono molto a dei regimi liberali, dove sostanzialmente la regolazione a un certo punto diventa, presta il fianco, no? Ha una possibilità di rendere queste piattaforme, diciamo, serventi rispetto agli interessi prevalenti, dopodiché, attenzione, gli interessi prevalenti dei governi, soprattutto, ripeto, in contesti liberali, dopodiché che anche le piattaforme abbiano naturalmente posto in essere condotte poco commendevoli e abbiano approfittato di una, diciamo, tendenziale iperliberismo economico, questo senza dubbio, ma io penso che tanto più gli stati intervengono con la pretesa di guardare al di fuori dei propri confini e con la pretesa di incidere su come i prestatori di servizi dovrebbero gestire i contenuti, quanto più poniamo davvero degli strumenti, a mio avviso, pericolosi. Lo dico, ripeto, consapevole che può sembrare un'affermazione forte, ma non dimentichiamoci, insomma, che faccio un esempio banale, la disinformazione, oggi noi potremmo anche immaginare delle risposte forti da parte dei legislatori, attenzione però perché quelle risposte forti oggi in un contesto liberale ci appaiono innocue, ma domani in un contesto meno liberale rischiano di mettere nelle mani di soggetti che diventano un po' la merce del potere pubblico e questo ecco, direi che è un rischio dal quale dovremmo tutelarci. Grazie Marco, la tua posizione per me è molto chiara, così come è chiaro che al momento i modelli fra noi statuiti sono così divergenti che vedo grandi difficoltà a trovare un approccio comune, ma questo mi rende orgoglioso come cittadino europeo perché sono convinto che i nostri valori, quelli delineati dall'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, differenzino veramente il nostro modello di società da modelli di società che possono apparire apparentemente più prosperi e avanzati, ma che sono meno, dal mio punto di vista, meno vivibili, meno umani. Ci sono ancora alcune interventi, vedo che sempre Antonio Malamaci scrive Zuckerberg investe 50 miliardi di dollari per il metaverso, cosa che io non ho ancora capito che cos'è, devo dire la verità, ma dovrebbe investire molto di più delle cifre ridicole che investe nella moderazione dei contenuti non mediante algoritmo, perlomeno non solo con quelli, ma con intervento umano. Quindi Malamaci invoca un maggior investimento nella moderazione evidentemente. Qui dico a Malamaci che noi oggi abbiamo discusso se e come si deve moderare il contenuto online, poi certo gli investimenti dovrebbero seguire. Giovanni Stasi, evidentemente riferendosi soprattutto all'intervento di Alessandra, dice il famoso DL Zana, può essere considerato un tentativo di regolamentazione in Italia sull'argomento in discussione? E questo è un altro punto di vista. E se ci dice, collegandomi a quanto già è lussato ai relatori, più che regolamentare con moderatori o altri sistemi, non sarebbe meglio investire in formazione già in età scolastica sull'uso dei social per evitare il nascere di simile situazioni, potrebbe essere un progetto realizzabile evitando pertanto regolamentazioni e moderatori? Ecco, allora ci sono 3-4 cose. Vi darei, visto che il tempo è veramente ormai agli sgoccioli, darei due minuti ad Alessandra e due minuti a Marco per le vostre ultime riflessioni e poi ci salutiamo passando la parola per i saluti finali a Calabria. Alessandra, due minuti, 120 secondi e poi Marco. Allora, per quanto riguarda il DDL Zana, che purtroppo, come tutti sappiamo, non proseguirà il suo percorso di discussione. Questo DDL prevedeva l'estensione della tutela dei diritti rispetto a dei gruppi che non sono appunto riconosciuti come gruppi target in maniera specifica, quindi non solo il gruppo LGBTQI+, più conosciuto e più dibattuto, ampiamente criticato dalle posizioni che hanno portato poi all'affossamento del decreto, ma anche ad esempio dei disabili, gruppo di cui nessuno ha più parlato, specialmente durante il dibattito contro il DDL Zana. Questo perché? Perché questo decreto era stato pensato per estendere delle tutele già preesistenti a dei gruppi che non erano appunto menzionati e considerati esplicitamente all'interno delle normative vigenti. Perché non potevamo utilizzare le norme che avevamo già? Perché tutte le azioni discriminatorie, compresi i crimini d'odio, contro questi target gruppo, sarebbero ricaduti nella fattispecie di crimini commessi per futili motivi e quindi non connessi a un aggravante discriminatoria. Quindi avrebbe significato per l'Italia dare un segnale rispetto a un posizionamento forte rispetto alla tutela dei diritti umani di tutti e di tutte, mentre si è deciso di continuare a considerare i crimini di qualsiasi tipo, anche i crimini d'odio, verso persone appartenenti al gruppo LGBTQI plus e disabili, ricordiamocelo anche i disabili, come azioni dovute a futili motivi. Per cui se domani voi per strada picchiate un disabile o lo insultate, sarà considerato un crimine dovuto a futili motivi e non a un'azione discriminatoria per sé. Questo parla un po' della cultura anche del nostro paese. Quindi rientra la fattispecie del contrasto all'odio rispetto a specifiche categorie, ma era un decreto più esteso sulla tutela dei diritti umani. Per quanto riguarda invece il commento e chiudo di Secci, sì io sono assolutamente pro la prevenzione, la prevenzione è sempre uno strumento importante e forte per cui media literacy dovrebbe essere una delle materie insegnate dall'asilo, visto che già i bambini in età appunto d'asilo utilizzano gli strumenti digitali per arrivare ad avere degli adulti che siano degli utenti, non sono degli utenti ma dei cittadini digitali, consapevoli, informati che sanno come comportarsi in questo nuovo spazio, che non è più virtuale. Grazie Alessandra, hai veramente 120 secondi, Marco. Rapidissimo, allora io sul DDL ZAN ho una visione diversa, perché ritengo che i diritti non si estendono prevedendo dei reati contro la libertà di espressione, ma la libertà di espressione naturalmente non sia una forma virtuosa nell'espressione di manifestazioni di pensiero discriminatorie. Personalmente sul tema dei crimini d'opinione io ho una visione molto netta, andrebbero abrogati, ma non perché non ci debba essere tutela, perché ci sono altre forme di tutela che evitano un pericoloso confine tra esercizio legittimo, ancorché scioccante, diciamo poco condivisibile, riprovevole esercizio, ma legittimo della libertà di espressione, e discorsi d'odio che naturalmente provocano chiaramente una reazione giustamente all'ordinamento. Quindi io sono personalmente persuaso che lo strumento del diritto penale non sia utile in questa sede e che rispetto DDL ZAN si sia tutto sommato evitato di aggravare ulteriormente la situazione, permane naturalmente una situazione di differenziazione che comprendo essere assolutamente poco corretta. Devo rilevare che però per come era formulato c'era una difficoltà a distinguere tra propaganda, istigazione e incitamento. Attenzione perché ancora una volta ci rimettiamo alle difficoltà che un eventuale giudice nel valutare se applicare una sanzione penale o dover riconoscere un esercizio legittimo alla libertà di espressione dovrà. Quindi ecco, ho dei rilievi diversi che non si appuntano naturalmente sui profili antidiscriminatori, ma su questo. Sul profilo dell'educazione certamente, ed è infatti il primo rimedio che ci eviterebbe di dover scrivere e di occuparci di DDL ZAN. Ci occupiamo più di educazione e meno di norme penali che poi avrebbero un uso limitatissimo come dimostra la giurisprudenza. Grazie Marco, anche qui una visione netta da parte tua ed è legittimo ovviamente. Noi avremmo, è ovvio che il DDL ZAN solleverebbe spazio e tempo per un altro webinar, ma che in questo momento non possiamo fare. Io ringrazio ancora una volta Marco Bassini dell'Università Bocconi per essere stato con noi, un amico, un collega. Ringrazio anche Alessandra Coppola del Noi Speech Movement, anche lei un'amica, una collega con cui lavoriamo. Sono contento che ci siano state molte domande e mi dispiace se non possiamo rispondere a tutti. Do veramente per i saluti la parola a Claudia Salvi e vi invito nuovamente al prossimo webinar dell'11 novembre. A te Claudia. Sì, volevo anch'io ringraziare i relatori e ringraziare te che ci hai proposto questo format molto interessante e principalmente volevo ringraziare tutti i partecipanti e ricordare che il prossimo webinar si terrà l'11 novembre. Si parlerà di modello europeo di protezione dei dati personali fra interessi pubblici e privati. Quindi dovete registrarvi anche per questo evento se volete partecipare e come sempre la sera prima vi verranno inviate le credenziali. Quindi un'ultima cosa volevo ricordarvi che questo webinar è stato videoregistrato. La videoregistrazione sarà disponibile sulla pagina dell'evento che avete utilizzato per registrarvi e così saranno videoregistrati anche tutti i webinar successivi. Grazie mille a tutti e ci vediamo giovedì prossimo. Arrivederci.